Con la sua candidatura propone alla Regione Puglia un'attenzione ai più fragili. Certo, la capacità di prestare un orecchio d'ascolto, capace di far arrivare quel messaggio degli ultimi tendendo una mano, perché la politica è fatta di persone. Quali sono le sue proposte? Sicuramente far sentire la voce di chi vive ai margini della società e offrire quell'intervento nell'aspetto educativo che va alla formazione dei giovani. La candidatura di Deborah Ciliento riceve il sostegno da parte dei vertici nazionali e locali del centro-sinistra. Siamo a sostegno di tutte le candidature e del Presidente Emiliano. È importantissimo che in questa Regione si voti e si voti per confermare un'ottima amministrazione. La Puglia è cambiata, è cambiata in meglio e non si può interrompere questo percorso. Però per la prima volta c'è la possibilità della doppia preferenza. E quindi io dico a tutti gli elettori utilizzatela, perché è importante avere più donne in politica. Quindi votate un uomo, ma votate anche una donna. Ovviamente l'obiettivo è quello di far cassa. Il centro-sinistra vuole far cassa anche in questa Regione. Il centro-sinistra mette a disposizione delle persone competenti, autorevoli, dal punto di vista proprio del loro profilo umano, professionale. Quindi è un'occasione, anche questo è un passaggio importante, perché gli uomini e le donne, le risorse migliori del nostro territorio, possano rappresentare le comunità intere. La Regione Puglia necessariamente deve continuare, così come il Comune di Trani, in un lavoro che è stato assolutamente proficuo, positivo, e che tocca a noi ancora sostenere con molto entusiasmo, con molto coraggio e con molta tenacia.